Una buona giornata e bentrovati per la prima edizione del nostro giornale. L'Italia sarà superprotetta dal coronavirus. Una nuova serie di misure stringenti che sono state esposte in conferenza stampa ieri sera dal presidente del Consiglio Conte mette nella condizione il nostro Paese di avere misure per combattere il coronavirus che è già vicino quasi alle 8.000 vittime secondo l'ultimo bilancio della protezione civile. Ieri sera, poco prima delle 22, il Premier è apparso nella sala stampa di Palazzo Chigi per annunciare importanti provvedimenti e misure a tutela della sicurezza dei cittadini italiani. Ascoltiamolo.